Io non entro naturalmente nel merito, poi dal libero cittadino ho una mia idea naturalmente e l'ho espressa andando a votare, votando per la proposta che era più simile all'idea che ho io di come deve essere svolta il ruolo di banca del territorio. Quindi la cosa positiva che ho visto in questi anni da sindaco, non entrando appunto nel merito delle questioni anche di difficoltà che ha vissuto la banca in questi ultimi periodi e che ha portato a questo epilogo, insomma anche di liste contrapposte, è che in questi anni la banca ha svolto in maniera straordinaria il ruolo di banca di comunità, di banca del territorio, vuol dire una banca vicina ai cittadini, vuol dire vicina all'impresa, al commercio, una banca vicina alla socialità. Io spero e credo che la proposta che ha prevalso all'interno della contesa che c'è stata all'interno dell'assemblea di domenica possa essere una proposta anche per il titolo che aveva la lista che richiama proprio questo elemento qui, banca del territorio, banca di comunità, banca vicino al territorio e alla comunità, che ha la sua legittima ambizione giustamente perché sono state anche fatte delle scelte importanti, ma che non dimentica ha la sua mission originaria, che altrimenti rischierebbe di trasformare una banca come tante altre, con tutto il rispetto degli istituti di credito, ma insomma credo che le banche di comunità abbiano una origine e una mission diversa che debba essere mantenuta anche negli anni e nonostante i cambiamenti che sono accaduti e che accadranno.